Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Critica al nome d'arte di Francesco Paone, l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Eliminato nel corso della quarta puntata del serale dell'ultima edizione andata in onda, è stato ricoverato in ospedale vittima di un malore. Il cantante, ex di Amici, che dopo aver abbandonato il talent show, fu scelto da Stash dei The Colors per aprire i suoi concerti, ha dato l'annuncio attraverso i suoi canali social, raccontando di aver avuto dolori forti allo stomaco che l'hanno costretto a fermarsi con i concerti in programma. Ieri sera doveva esibirsi a Calvi, ma non era nelle condizioni di potersi esibire. Ieri nelle stories ha spiegato «Purtroppo stamattina mi sono svegliato con dolori lancinanti allo stomaco e sono stato ricoverato in ospedale per una presunta appendicite». Speriamo non sia nulla di grave per Critical e che tutta si risolva nei migliori dei modi.